E se non so cosa per te, mi riconosci? Dime del superfile! Se tu mi era nata possibilità, io c'era la possibilità. Tu te ne vai a Roma, ho rilevato un'attività, un ristorante. Si parla da strunzata, quello che deve succedere succede. Avorto! Questa te la chiami carbonara? Ho avuto un'idea, tu vieni a lavorare per me. Levati, così si brucia il fogherà. Decido tutto io, menù, fornitori e brigata. Voglio assoluta autonomia, prendere o lasciare. Da domani... Benvenuti al nuovo Picchio Blu. Che cosa ha preso il 9? Il piatto è come un quadro, solo che il pittore usa i colori e non gli ingredienti. Sì, certo! Non c'è una forma d'arte più pura della cucina. Mi ha detto questo e veniva dal cesso. Ho visto qualche roba che prova. Senti, guarda, questo è il mio sogno. Trovatene uno tuo e levati dal cazzo. Io il sogno mio non ce l'ho mai potuto avere, capito? Bravo. Prasizzo. Per una volta che mi sono fidata, sono proprio una stronza. Fammi capire, prepari una cena a quelli che stanno venendo a ucciderti. C'è solo una speranza che funzioni. Se cucino io. Grazie a tutti.